Bene, siamo qua con l'ennesimo studente anonimo, dopo un corso di due giorni, quindi prego studente anonimo raccontaci un po' chissà il tuo punto di partenza, perché hai fatto un corso. Sì, allora, intanto ci tenevo a specificare che mi sono iniziato ad informare sulla seduzione già da qualche anno, da circa 4-5 anni, però senza mai applicare con costanza e quindi sentivo l'esigenza di fare un corso dal vivo, visto che non avevo tantissimi risultati, perché appunto non avevo questa costanza e soprattutto non sapevo determinate cose che andavano fatte per poter portare a casa il risultato che alla fine mi interessava, quindi andare a fare l'appuntamento con la ragazza, andarci a letto e quindi chiaramente non sapendo queste cose mi veniva tutto molto difficile, anche le esperienze che ho avuto, sì, è capitato che le ho avute, ma sono state anche esperienze un po' dettate dal caso e invece se qualcuno fa le cose come si deve, seguendo un metodo, alla fine si capisce che i risultati poi arrivano e sono arrivati. Infatti in questi due giorni di corso io ho fatto tre instant date. Cosa è l'instant date? Per chi non parla inglese? Per chi non parla inglese l'instant date è un appuntamento istantaneo con la ragazza che è stata approcciata per strada o comunque in un contesto di giorno e fare quindi l'appuntamento, parlarle e poi giustamente riuscire a interagirci e poi portare avanti l'interazione fino a fare escalation logistica e quindi possibilmente anche successivamente andarci a casa. Io non sono riuscito ad andare oltre un certo limite, quindi ho fatto questi instant date, sono andati bene, ho fatto alcuni errori, ho ottenuto diversi numeri di telefono, ho fatto diversi, tantissimi approcci, ho imparato tantissimo soprattutto dal fatto che bisogna lavorare, ma lavorare tanto, veramente tanto sul numero di approcci, sul fatto che non bisogna assolutamente abbattersi, bisogna controllare le proprie emozioni, osservarle e non farsi comandare appunto da queste emozioni, saperle gestire tutto tramite il metodo che viene insegnato nel corso, né più né meno. E quindi invito chiunque guarda questo video a informarsi assolutamente su un corso dal vivo perché le cose che si imparano proprio dal vivo con Luca e con gli altri istruttori è difficilissimo impararle da sole. Io sono anni che studio la seduzione, ho applicato diverse cose già per i fatti miei, ma difficilmente ho ottenuto risultati in maniera costante, quindi direi che è assolutamente essenziale fare proprio un corso dal vivo, lo consiglio a chiunque. Vorresti far sesso con una nuova ragazza conosciuta dal vivo di giorno per strada? Se sì, fai il primo passo prenotando un'ora di corso al vivo con un coach di approcciola.it in una città a tua scelta fra Milano, Roma, Torino e Zurigo. Anziché due giorni di corso a 1.500 euro puoi prenotare direttamente una sola ora di corso dal vivo a soli 49 euro fino al 29 agosto. Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni.